L'acqua pubblica è la prima delle nostre 5 stelle e i portavoce a tutti i livelli istituzionali sono chiamati a difenderla e a garantirne l'accesso a tutti, ad esso e anche alle generazioni future. L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e il futuro dell'intero pianeta dipenderà dalla sua disponibilità e dalle modalità del suo utilizzo. L'acqua è quindi il bene comune per eccellenza che l'intera umanità ha avuto in dote e come bene pubblico universale è indisponibile all'investimento privato. Quindi l'acqua appartiene e deve essere ugualmente accessibile a tutti ed il suo accesso deve essere garantito in quanto diritto umano e servizio pubblico. Con il voto referendario del 2011 27 milioni di cittadini italiani hanno urlato alla politica che sull'acqua non si può fare profitto e deve essere gestita ed amministrata al di fuori e al di sopra delle logiche di mercato. La stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 28 luglio del 2010 ha approvato una risoluzione con la quale è stato dichiarato che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale fondamentale definendo il minimo vitale garantito in 50 lettere al giorno per persona. Il Parlamento europeo l'8 settembre 2015 ha approvato una risoluzione promossa dalla rete Right to Water a fronte della raccolta firma e iniziativa dei cittadini europei intitolata L'acqua è un diritto. A più riprese l'ONU è poi tornata sull'argomento sottolineando come l'acqua potabile e per usigenico oltre ad essere un diritto di ogni uomo concerne la dignità della persona. Agli Stati membri è stato raccomandato di prevedere di attuare iniziative per garantire a prezzi economici l'accesso ad un'acqua potabile e di qualità in quanto l'acqua è considerato ben essenziale per il pieno godimento della vita. Anche Papa Francesco nella sua seconda enciclica Laudato Si ricorda all'umanità il costante peggioramento della qualità dell'acqua disponibile e la tendenza a privatizzare questa scarsa risorsa trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. Dice ancora che l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano universale in quanto determina la sopravvivenza delle persone. E così nel rispetto dell'impegno preso con i cittadini abbiamo depositato una delibera di modifica dello statuto di Roma Capitale. Da Roma partirà il riconoscimento dell'accesso all'acqua come diritto umano universale indivisibile inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico perché l'acqua è un bene comune non è una merce.